Musica Musica Che sono usati a Roma? Non c'erano, però di fatto c'erano. Perché? In Molteco Nation erano presenti, l'Africa United, nella grande formazione storica di qualche anno fa. Cosa mi racconti su questo evento? Balcanizzazione dei subsoniti. Che ogni tanto è saggio quando sia un'attività di gruppo, così che è anche un po' energivola questa relazione tra i membri di una band, lasciarsi un po' di libertà. Delle parentesi in cui ognuno approfondisce un po' i propri progetti. Nel caso mio, nello specifico, abbiamo riallacciato un rapporto di amicizia e di musica vecchio di vent'anni, nel senso che abbiamo rimesso in piedi quella formazione di quel disco lì. La formazione di Africa United, il disco Babilonia Poesia, andando a ripescare a campo gli strumenti dell'epoca, per godere noi di questo riprovare gli amici con i quali per la prima volta abbiamo cominciato tutti quanti a fare musica. E sul palco del primo maggio abbiamo dato una piccola pillola di quello che poi è stato un primo tour fatto più per passione e divertimento che per altro, però è andato così bene al punto da proiettarsi verso l'estivo su quello che sarà per proseguire questa attività a pari aperta. Bene, questa è una cosa che ci può piacere. E poi per quanto riguarda dei producer invece questo altro lavoro che comunque tu hai portato avanti, ci sarà un seguito con un nuovo disco, con qualcosa di questo tipo? Avete qualche idea? Di producer per adesso, nella stagione estiva, riporteremo quello che è stato il tentativo di riprodurre un planetario in un teatro, con una scenografia anche molto articolata. Sì, lo disco al reggio è stato molto bello, sì, ne faccio. Con una semplice intuizione lo portiamo sotto il cielo stellato per le notti estive e raccontiamo che lì si trovano all'osservazione di questo, di quello che è il più grande spettacolo che è riconosce da nostra testa da quando siamo nati. Beh, davvero un bel spettacolo. Ma un disco, un secondo lavoro magari li scoperà poi? C'è qualche idea di questo tipo? L'idea è quella di proseguire nelle diverse discipline, nelle diverse scienze, si è parlato di affrontare il tema botanica ma non è ancora stato deciso, ci sono tanti problemi. Ma comunque si collegano tutta una serie di cose a questi discorsi. Sì, se ne facciamo musica per conferenze scientifiche. Esatto, esatto, la vostra è timbrata così, insomma. Grazie. Grazie a tutti.